ok ciao ragazzi sono Erd, benvenuti in questi video benvenuti in questo video se ne ho guarda una mappa ho delle solute con Mike e Fed citta ma ve lo assicuro quanto non so cosa che citta fidatemi di me che citta fidatemi c'ha 7 su 1900 questo qua ha sperintato o sbaglio un diamante non è vero non c'ho più ora tutti vanno verso sud scommetto se tu si è girato subito no no, vado preso ma vado preso ma vado preso oh no oh madonna sto perdendo il buco di lava di merda non sarebbe la prima volta vado preso che sei te mi assoluto sto facendo ora sono cos'era un buco di merda questo qua si prende tutte le t2 madonna schifoso ma non ti preoccupare grandissimo ah, amico che mi dà la cosa ma non l'arma però rettella proprio fuori ok 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 mi sono un'arma però un arco per te un'arma certo io 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 ho già 2 c ci trovo film testi ma come si fa ok c'è un arco e un'arma per me ok c'è un arco e un'arma per me c'è un'arma di legno 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 città lo assicuro lo sito assicuro ok città però che cazzo blocchitti coglioni noi ci siamo per chiara il suo momento dopo un'area per mani presto la gamba solo a prenderla poco video eeeh e cosa facciamo no ok andiamo di entrare alla caverna c'è un pezzo di ferro per nessuno in realtà ci vanno però non c'è nessuno c'è un pezzo di ferro però vado a prendere la ter2 io vedo io vedo ma no io prendo il terreno mi serve il cibo ok stai attento ancora arriva qualcuno ma mi sto sempre guardando in F5 mamma no dove cazzo è la quattro ecco da qua uo epico c'ho spada in fin cosa per te in no cioè spada in pietro eh dove sei ma aspetto questo fondatore mi trovo bene ed dietro ok tieni tieni e tieni e tieni ok ora il punto è che dobbiamo prendere altri tier 2 se no non possiamo fare niente ma salire qua sopra la cd1 edo vabbè dove ah lì la cascata grazie l'ho fatto a posto ok non andiamo all'era porto però aspetta vuol dire cosa che tu è chiaro ok ok what the fuck no no niente ok sono qua quanti belli pixel di ad di ad di ad di ad ho visto pixel ho un diamante però tu ce l'hai? e no come no prima hai detto c'ho un diamante ah no forse era la pagina scorsa eh ma dai era sempre una sorta dove sei? no aspetta che c'è ho visto una cesta di non so se ti vuol dire ti lo sicuro e te lo fai figuriamoci e fa anche cagare come ti uno c'era una mila e un pollo crudo questo dovrebbe essere tardo no l'hanno già preso non ci posso tenere ultimamente per diventare buddhisti aspetta tipo oh c'è uno lì oh c'è uno lì nell'acqua lo shotto lo shotto e chiaramente come c'è la barca e vado a prendere no perchè dovresti spiegare la barca per ok bravo tu chiudi da quel lato bravissimo no sto laggando dai madonna ma è il mostro di crisi pure questo là cioè non capisco sto frizzando ma che è andato a spiegare di qua scappa oddio quanti ce ne sono qua madonna cosa so che i suoi timari sono te muori che si è messo talmente di merda che muovi oddio attento questo attento questo ok sto arando quella oh vai via scappa scappa scopo oh c'è due cuori c'è due cuori scappa aiutami che cazzo è la ho tento Gapult non mi spiace Gapult no no vedo 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 ho tre cuori già ti distruggò la madre tre cuori anch'io ok uh anch'io andiamo faccia spada andiamo faccia spada ok 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 andiamo faccia spada aspetta un momento un po' di pia e cos'è no delle mi vanti go go edo rager ok posso farmi una bellissima spada in diamante look at my pixel beach oh dammi un negozio di ferro tieni 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 ma tu mi hai mostrato da gaming? no chi c'ha vuole di comprare ok ora non andiamo a cercarci rogna perchè se ci sono cheater siamo fottuti e io non voglio che ci siano cheater quindi aspetta che faccio un po' di frecce ma do quante persone che vedo qua facendo F3 ma do quante persone che vedo qua facendo F3 no ho anche mio scatto no vabbè quattordici si con i biscotti si croffano si proprio mi metti un fuoco se c'è un accendino ok grazie evito di buttarmi la spegne diamante perchè a me c'è successo perchè a me c'è successo no mi prefero a spengare il fuoco tieni tieni la fishing gratt ok la darà butto ne vedo uno la no che lo vedo cos' aspetti a me refill tu hai una barca? no ne vedo uno fu il ferro di la ok allora andiamo da quello che è fu il ferro ehm se non è proprio una ehm alle mongolfiere tipo io ho visto lo so fare anche a F3 sto facendo pure ora si ma cazzo con lini mi da un po' di città non so perchè aspetta un attimo metà timing non so così non faccio F3 ma mi sto rotto il cacchio aspettando non ho fritto con F3 eh grazie al cazzo timing vabbè ma comunque sto sempre renderizzando quindi ok no frizzo aspettando prendo con la freccia no mi sa che non ha io ned pro sniper ora la chile va a me però detto le kill auto mic è chiuso no attento sentento gg ok ok prendi tu dammi la chat petine ehm uff uff no la bambina basso le mie macre le mie macro ma che spadaite? vero ok cioè si è messo uno stupido però ok ok ehm dovremmo averla vinta teoricamente vero? aspetta che guardo le statistiche degli altri tipo Fiona è scarsa Ricky V è scarso microphone muted microphone activated e miner S è scarso abbiamo vinto ehm Mike cioè quella più forte c'è 10 su 637 come kill sono messi tutti male quindi non dovrebbero citare teoricamente cioè c'è uno che ha fatto aspetta eh 4 kill in 119 partite 4 vediamo se si stanno allo spawn se ci no vabbè ok si si sono killati non lo fa non faccio slash kill perchè magari è un pericolo tipo non so anche perchè lo dovrei fare è rimasto Fione e Ricky ok ne vedo uno dove sei? dove sei? dove sei? non ti vedo Mike sono sopra gli alberi no no non sa nessuno ai vicini dove stai? sono lo spawn che sono sopra gli alberi guarda c'è ed aspetta aspetta quali sono eh dove cazzo sei? su dove? su dove? su dove? guarda su dove? ok ti vedo come sono messi gli altri? eh non lo so non li ho visto eh come? aspetta eh tipo era full maia ahia che era full maia era full maia eh ma io non ti vedo eh che ti do beh andiamo a aspettare il refill eh dai tanto credo che non sono contesto dire ok non deve essere intimo ma pure se sono intimo cioè maio che non cittino proprio cioè tipo de eh è un pezzo di ferro che faccio delle accesorie tipo un soldato aspetta io mi voglio un attimo alleanare il suo canale da pesca aspetta vado andando un po' ne clicca però faccio colpano quella aspetta vi dico un attimo no aspetta vuoi che ti insegni guarda 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 tipo guarda guarda luoghi bravo certo per così edo tipo così specie per il pro di attaccare così di dato ok ok capito ok capito non mi sarebbe sempre io non lo so così ma non so che bisogna io una volta ho trattato uno fish in grota 1 eccolo eccolo verso scapo 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 con la città non città non città non si può essere presto sbagliando tipo guarda io sto facendo in critica di occhi ma non è tanto male prostituzione non so che non è così scarso no mi dispiace ma comunque ma lì ferro abbetopita vabbè o aspetta aspetta prima chiediamo quello ma infatti richi vu sai che non c'è possibile anche che si accita aspetti io proteggo anche vedo che punto sta il video oh ho appena vito a 10 secondi tipo quando comincia a death l'ho tanto poi vincito al death quindi no daio non si sa mai metti in casa poi pingo un botto o per miscivole non so oppure uno scogliato mi offre la nutella scherzo city come se sto 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 c'è da renderizzare come mc ho una donna braklobaldo e chi non lo poto detto cd toco no ma no ma è scarso no volevo metterlo in stile wow madonna proprio cioè è convinto ok c'ho spagna in pietra quante frecce hai? ehhh 46 oh 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 messaggi subliminali ah io ne so di minuto? no pietra ne ho 13 io e quante frecce hai? 13 ho dividito non so contare madonna che scarso to buttone una io sono 29 faccio come graverd eh si bravo ok certo 3 2 1 via guarda che mi mettono la taglia schifosi si madonna gg 2 perchè ti ho dato un colpetto in più ok gg ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao